Buongiorno a tutti i telespettatori di San Giovanni Rotondo, come potete vedere dall'orologio sono le 8.30, qui siamo in Piazza dei Martiri e mancano ancora 10 sezioni alla fine dello scrutinio, quindi ancora fumata nera, non possiamo ancora avere dei risultati certi per queste ultime elezioni comunali. Buongiorno Costanzo Cascavilla, siamo ormai giunti quasi al termine di questi scrutini e i risultati ci lasciano comunque per certo un eventuale ballottaggio tra lei e Maruzzi. Sì, sarà certamente ballottaggio, noi arriviamo con un vantaggio quasi inaspettato, cospicuo, che ci fa ben sperare anche per la prossima elezione di domenica 19. È stato un risultato secondo noi eccezionale, partivamo con gli sfavori del pronostico, l'altra coalizione si dava già per vincente al primo turno, abbiamo smentito tutti perché ovviamente abbiamo fatto una campagna elettorale degna di un paese come San Giovanni Rotondo. Beh, in effetti fino a poco tempo fa si parlava di 40% addirittura. Sì, 40% forse per loro, invece lo abbiamo preso noi, ovviamente non possiamo essere che contenti, tutti i candidati e le candidate hanno fatto un lavoro eccezionale per il candidato sindaco, le liste hanno lavorato in un certo modo, c'è stata molta correttezza da parte nostra e questi sono i risultati belli quando si lavora bene.